Ucraina, pesante attacco russo su 15 regioni del paese. Si chiama Ryan Evans, l'addetto della Reuters, trovato morto a Kramatorsk. L'arresto in Francia del fondatore di Telegram Pavel Durov potrebbe complicare le comunicazioni dell'esercito russo in Ucraina. Terza multa per Uber nei Paesi Bassi, quasi 300 milioni di euro per non avere trasferito in sicurezza negli USA i dati degli autisti europei del lab. La Russia ha sferrato il suo più grande attacco all'Ucraina dall'invasione di Kursk. Il presidente Vladimir Zelensky ha condannato il bombardamento notturno che ha colpito 15 regioni e diverse infrastrutture civili. Iniziato intorno a mezzanotte, l'attacco si è protratto oltre l'alba. Molte abitanti di Kiev hanno trovato riparo nella metropolitana per farlo. Farsi coraggio hanno intonato l'inno della città. L'inno della città. L'inno della città. C'erano necessità di rinforzare. Poi avevano un'attacciaio, non avevano un'attacciaio internazionale, non avevano un'attacciaio di via, ma avevano un'attacciaio per i bambini, perché in scuola stavano trovati molto grandi. Sabato Ryan Evans, 38 anni, consulente britannico per la sicurezza, è rimasto ucciso nell'attacco russo all'hotel di Kramatorsk dove alloggiava. La detenzione di Pavel Durov potrebbe complicare le operazioni militari della Russia in Ucraina. La sua piattaforma di messaggistica criptata, Telegram, è molto popolare tra i russofoni e ha un ruolo cruciale nella guerra, sia per le operazioni sul campo che per la diffusione della narrativa del governo di Mosca. Secondo l'Institute for the Study of War, Telegram è la principale alternativa alle comunicazioni ufficiali per il personale militare russo in Ucraina. It's not just a news source, but it's a kind of key messenger that is used for coordination of action on different level to store video, to share large files and all this kind of things. And you've got a lot of channels who are directly, more or less directly connected with the Kremlin or with the DOD, the Department of Defense of Russia. Anche se in passato non è riuscito a mettere il canale sotto il suo completo controllo, il Kremlino ha instaurato, secondo gli esperti, una sorta di cooperazione con Telegram, che continua a operare in un'apparente indipendenza, ma è sempre più sorvegliato dalle autorità rousse. The owners of channels that are grouping more than 10,000 followers have to give the information to Roscoe Masdor, which is more or less the organisation who is in charge of controlling all the medias and social networks. In the same law, they are explaining that if you've got a channel who is followed by more than 500,000 packs, you have to give all the information on your users just if RKN or the IFISB is asking it. So there is a kind of, not a control, but let's say a kind of more or less cooperation. Con il suo amministratore delegato in prigione in un paese europeo, Telegram potrebbe essere ora considerato poco affidabile dalle forze armate russe e, nel peggiore dei casi, venire perfino completamente bloccato nel paese. Sembra improbabile, invece, che le autorità francesi possano accedere alle informazioni militari contenute nelle chat criptografate della piattaforma. Intanto la detenzione di Durov si è già trasformata in un caso diplomatico. L'ambasciata russa a Parigi ha accusato i francesi di rifiutarsi di collaborare, mentre il presidente Emmanuel Macron assicura che l'arresto non è una decisione politica, ma un'iniziativa completamente indipendente della giustizia. Mosca ha accusato France Dourav's detention period for not curbing enough offenses, allegedly, on the Telegram platform, such as, for example, fraud, drug trafficking, organized crime, and even promotion of terrorism. Dourav could be held up to 96 hours for questioning. After the end of this detention period, a judge can then decide whether to set him free or to press charges against him. French President Emmanuel Macron insisted on a Monday afternoon that Dourav's arrest was in no way a political move. Russia's embassy in Paris said that they had tried to get in touch with Dourav, but said that the French side was not cooperating with them, and that's because Dourav also holds a dual nationality with France. Sophia Katzenkova, reporting from Paris for Euronews. La politica estera, compresa la guerra in Ucraina, ha dominato il dibattito politico in vista delle elezioni statali della Germania orientale, che si terranno a settembre. I partiti di estrema sinistra e di estrema destra chiedono negoziati con la Russia e l'interruzione delle forniture di armi all'Ucraina. Sul peso dei governi locali nelle decisioni federali ne abbiamo parlato con il politologo Cole Schmeider. Non c'èmbre di diretti di un'imposte di auzion politico o di Bundesregierung. Die können nicht einen Antrag stellen, der dann angenommen wird, e anche i trei Länder zusammen sind ja noch eine kleine Minderheit im Bundesrat beispielsweise, aber das Problem ist eher, die anderen Parteien sehen ja, was passiert. Die sehen ja, okay, BSW und AfD bekommen viele Stimmen. In Ostdeutschland ist das Thema Krieg ganz wichtig. Die Ostdeutschen sind viel skeptischer, was die Sanktionen gegen Russland angeht, was die Hilfe der Ukraine angeht. Und was jetzt passiert, ist, dass beispielsweise der sächsische Ministerpräsident, der zur CDU gehört und der im Bundesvorstand der CDU ist, also ein einflussreicher CDU-Politiker, der sagt seit Wochen, seit Monaten, wir müssen uns mit Russland wieder vertragen, wir müssen wieder russisches Gas kaufen, wir müssen die Ukraine fallen lassen, wir dürfen der Ukraine nichts mehr geben, wir sollten ukrainische Flüchtlinge rausschmeißen und so weiter. Wenn wir jetzt beispielsweise ein sehr starkes Wahlergebnis für die AfD in den drei Bundesländern sehen, dann werden auch die demokratischen Parteien dann sagen, okay, woran liegt das und was müssen wir vielleicht ändern? Und dann wird sicherlich einigen einfallen, oh, die AfD ist ja gegen die EU und gegen die EU in dem aktuellen Zustand, also müssen wir jetzt auch pöbeln und gegen die EU was sagen. Neither the far-right-party Alternative for Germany nor far-left-party Zahra-Wagenknecht-Alliance can govern alone, as both parties are expected to draw well below the required 50% of votes needed to form an absolute majority government. However, if both parties together manage to win more than 50%, then it would be impossible to form a government without them, at which point either party could start making strong demands at the negotiation table. Demands that are likely to include the haunting of weapons deliveries to Ukraine. Liv Stroud, in Berlin, for Euro News. Lea autorität portoghese invitano alla calma dopo il terremoto di magnitudo 5.3 che ha colpito nelle prime ore di lunedì mattina. Non si registrano né vittime né danni. I funzionarii governativi affermano che il sisma non è stato abbastanza forte da giustificare l'attuazione dei piani speciali. È una preoccupazione, nel senso che la preoccupazione è saber se abbiamo meios di risposta e questo, e un fenomeno natural con questa intensità già permette verificar come os meios stanno o non stanno in prontità e con capacità di risposta. Portanto, so questo punto di vista, digamos che è una vantaggio colateral di un evento desto, è poter fare questo test di forma reale. L'epicentro del terremoto è stato registrato nell'oceano, a 58 chilometri a ovest di Sines, ma è stato avvertito fino a Lisbona. Tre, le scosse di assestamento. Mi ricordi, e poi il barulho di salem ovest e le cose in casa anche fanno barulho. E poi è successo. Secondo le autorità portoghese, il terremoto non ha causato danni a persone o cose. È l'evento sismico più forte registrato in Portogallo dal 2009, quando una scossa di magnitudo 5.6 ha colpito la costa meridionale. L'agenzia olandese per la protezione dei dati personali ha multato Uber per avere immagazzinato informazioni sensibili sui suoi autisti in Europa, in server degli Stati Uniti. I dati ritenuti sensibili e trattati in maniera non conforme al regolamento sulla protezione dei dati personali, entrato in vigore nell'UE nel 2018, sono per esempio il numero di licenza, di taxi, dati sulla posizione, e persino alcune informazioni mediche. Questa decisione errata è la multa straordinaria, 290 milioni di euro, completamente ingiustificata, ha dichiarato un portavoce di Uber via email a Euronews Next. La app di ride sharing fondata a San Francisco ma con sede europea ad Amsterdam ha accusato piuttosto le autorità di incertezza sulle norme da applicare nel trasferimento di dati tra Europa e Stati Uniti. Nel 2020 infatti la Corte di Giustizia UE ha sentenziato l'illegalità delle modalità utilizzate, ma tre anni dopo la Commissione ha rassicurato che gli USA proteggono i dati in maniera adeguata. Grazie a tutti.